Siamo allo sport, parliamo di calcio segnatamente del Pescara, Pescara che è pronto a rivoluzionare la rosa, a rivoluzionare l'organico, insomma Pescara pronto a cambiare pelle, serviranno almeno 10-11 giocatori sino da prendere. Entro la chiusura della sessione estiva di calcio mercato, alcuni saluteranno per fine contratto, altri per scelta tecnica, altri ancora perché prestiti e dunque torneranno nei club di appartenenza, stiamo parlando in generale di Germinario, Ingrosso, Cancellotti, Crescenzi, Colai, De Sogus, Delle Monache, Craia, Giabua, Gozzi, Sommariva e Mora. In stand-by Vergani potrebbe chiedere accessione, lo stesso portiere Alessandro Pizzari perché insomma Zeman sembra deciso a puntare sul giovane Andrea Daniello. Sulla carta anche Merola per fine prestito, in realtà il Pescara vuole trattenere l'esterno classe 2000 Campano, l'esterno Mancino, qui c'è il problema legato all'Empoli, l'Empoli non rinnoverà con Merola. Merola va in scadenza il 30 giugno 2024, l'Empoli vuole monetizzare, dunque sarà ceduto a titolo definitivo, bisognerà trovare una quadra, i due club comunque si stanno muovendo. Accardi ha già parlato con il DS, il suo obologo biancazzurro Daniele Dellicarri, c'è però un aspetto da considerare perché Merola vuole restare a Pescara, vuole restare alla corte di Zeman e questo aspetto, questo che non è proprio un dettaglio irrilevante, potrebbe influire sulla trattativa. L'alternativa è comunque Giacomo Manzari, cui abbiamo parlato con Dovizia dei particolari, anche nei precedenti TG, un classe 2000 come Merola, proprietà Sassuolo, quest'anno si è messo in grande evidenza nel Monopoli segnando 8 gol. Verranno ceduti al migliore offerente sia Raffia che Lescano, soprattutto Raffia che ha tanti estimatori, è seguito con grande attenzione, con grande interesse dal Genoa, ne ho promosso Genoa di Alberto Gilardino, ma anche dal Frosinone, la valutazione di 2,5 milioni di euro. Lo stesso Lescano, valutazione 600 mila euro, 20 gol in questa stagione, piace e attenzionato tantissimo sia dalla Reggiana che dall'Ascoli, sono due club naturalmente di Serie B. Messi che invece dovrebbe restare, usiamo sempre il condizionale quanto mai di rigore, è concreto l'interesse per Daniel Sannipoli, classe 2000 che quest'anno si è messo in grande evidenza nel Latina ex Trastevere, tra l'altro 4 gol di cui uno molto bello all'Adriatico Giovanni Cornacchia a gennaio nel 2-2 conclusivo tra Pescara e Latina. Piace anche il difensore, il promettente difensore centrale della Fiorentina Lorenzo Lucchesi, classe 2003, ha giocato con grandi risultati nella Primavera Viola che è stata allenata quest'anno, che è allenata negli ultimi anni, è stata allenata negli ultimi anni da Alberto Aquilani, tra l'altro vice campione d'Italia nel campionato Primavera, e poi piace, è concreto l'interesse per il terzino destro Gabriele Ferrarini, che è di proprietà della Fiorentina quest'anno però soltanto, anzi zero presenze per essere precisi, tra Monza, quindi tra un club di Serie A e il Modena nel campionato di Serie B. Problemi fisici hanno impedito a Ferrarini di mettersi in luce, problemi fisici ampiamente superati, tra l'altro era stato già attenzionato dal Pescara qualche anno fa dall'ex responsabile dell'area sportiva Giorgio Repetto. Ferrarini ha giocato in B nel Perugia, ma anche nel Venezia, stagione 2020-2021, 18 presenze, ha vinto il campionato con i Lagunari, allora allenati da Zanetti. Per il centro capo, altro giocatore da tenere d'occhio è l'Estone Tujov, un giocatore che quest'anno ha militato nella spalla, è di proprietà della spalla, 23 presenze con i tre allenatori che si sono avvicendati sulla panchina estense. Lo scorso anno, stagione 2021-22, per il 2001, Estone, una esperienza importante nella carrarese di Totò di Natale, si tratta di una mezzala di grandi qualità tecniche, un mancino che può giocare anche trequartista, infatti spesso Totò di Natale lo scorso anno nella carrarese lo ha fatto giocare tra le linee. Per l'attacco nessun riscontro su Gori, Spalluto e Millico, e poi c'è da dire che per il centro capo piace anche il 2003 Stefano Paglino, di proprietà del Novara lo scorso anno a Caserta in Serie D. L'ultima cosa che invece dobbiamo ricordare è il ritiro, perché non è stata ancora presa una decisione ufficiale dalla società per il ritiro che scatterà ufficialmente il prossimo 15 luglio, non in Canada. Questo è certo, in Canada andrà la formazione primavera, andranno anche i ragazzi dell'Academy, probabilmente non c'è ancora, ripetiamo, il crisma dell'ufficialità, la squadra di Zeman svolgerà la preparazione pre-campionato in sede tra Poggio degli Olivi, Montesilvano e lo stadio comunale Ughetto di Febbo di Silvi Marina.